Tutti raccontevano il mercurio e la Food Administration, l'agenzia americana su controllo dei farmaci, dal 99 aveva vietato l'uso del mercurio nei vaccini. Premiera l'agenzia europea che esortava dal 99 Stati membri a eliminare dal proprio territorio il vaccino del mercurio. In Italia, giugno del 99, erano presenti i vaccini col mercurio e anche quelli senza, però quelli senza era molto difficile ottenerli. Per i mesi aveva detto che entro il 2007 in Italia sarebbero stati eliminati i vaccini. Questo non è successo. Continuano a esserci con il mercurio. Scusate, ho dimenticato i vaccini con il mercurio. No, la madre valentale, ad esempio, il mercurio è stato abolito per la madre valentale. Nei vaccini invece il mercurio continua ad esserci. In quanto anni in America, fino al 2018, c'è un accordo tra aziende per continuare a produrlo, dove questa azienda dà al venditore del premetto il 10%. Questo fino al 2018. Io direi che a questo punto lascerei la parola all'avvocato che potrà spiegarvi dalla parte legale, l'avvocato di Lutti che fa parte della nostra associazione. Vi ringrazio. Allora, in quanto riguarda l'avvocato che sa Federica Grimonti, lei è di Genova, è specializzata nel diritto civile, contrappuale, bancario, diritto del turismo e diritto del corso. È inoltre componente del Centro Studi Informatica Giuridica, che è un osservatorio di Genova. E, al rispetto della sua giornalità, lo vedete da voi, giornalissima, ha collaborato come autrice nella pubblicazione di un testo giuridico di edizione maggiori che si intitola come difendersi da le placche. Inoltre, da 4 anni, collaboro con l'associazione Voglio Lire, risvolgendo attività di consulenza e le cari attività giudiziali. Io c'ho la parola alla vostra testa. Buonasera a tutti. Da 4 anni, coordino assieme ad altri miei colleghi, avvocati, l'attività legale, giudiziaria, normativa, presso l'associazione del consumatore corrigibile. Il tema della vaccinazione è a voci un tema molto caldo, molto frequente e di grande interesse. E' un tema che noi affrontiamo come l'igualità di legale di un'associazione in modo molto attraversivo, in maniera molto forte. L'associazione, infatti, propone un atteggiamento di offensivo, informativo e di approfondimento e di autotutoriali che sono molto terribili e retti. In questi ultimi tempi le domande sono sempre quelle più comuni e sono sempre più serratte. Cioè, quelle cosa faremo nel caso in cui questa pandemia, questa bufala mediatica, diventerà una vaccinazione obbligatoria. Quindi cosa faremo? Perché a tutt'oggi non è una vaccinazione obbligatoria. Ad oggi possiamo dire che 12-13 governi europei, tra cui anche l'Italia, hanno dichiarato formalmente di non renderlo obbligatoria la vaccinazione. Non renderlo obbligatoria. La Francia, peraltro, ha dichiarato che non la renderà mai medigatoria neppure nel caso in cui la Francia sia costretta da una direttiva dell'OMS. L'OMS che può emanare direttive contingibili per gli stati. Quindi se nel caso in cui dicano l'OMS in questo momento dovete vaccinare i bambini, gli adulti contro il morbillo perché il morbillo uccide, tutti gli stati devono aderire. Quindi sono obbligati a dover dire. L'Italia non ha detto nulla, nel senso che mentre la Francia ha dichiarato che non renderà la vaccinazione obbligatoria neppure di fronte ad una direttiva dell'OMS, l'Italia non si è ancora pronunciata anche se speriamo che reagisca prima la Francia. Diciamo che il messaggio trasversale mediatico è arrivato al di là della normativa, è arrivato al di là dei provvedimenti normativi, dei provvedimenti di legge ed è arrivato subito in mezzo tra la gente. Ora, chi gestisce come noi, legali, la parte normativa, cosa può dire? Può dire che l'obiezione nostra, l'obiezione dell'associazione, o l'obiezione degli legali che l'associazione rimane sempre la stessa, ovvero siamo duri, siamo rigorosi contro la vaccinazione obbligatoria, quindi siamo contro l'obbligo di tutte le vaccinazioni, tutte quelle che tendiamo a dover evitare. Quindi siamo invece a favore di un'informazione e di un'autocoscienza da parte dei genitori, perché i genitori sono coloro che hanno la potenza genitoriale e quindi ripariamo che non siamo assolutamente d'accordo alle vere che verso i grandi potentati economico e farmacentici. Le strategie quali saranno? Al momento non abbiamo strategie come legali, anche perché la vaccinazione non è obbligatoria, non c'è nessun obbligo, però continuiamo questa strategia in maniera serenata. Naturalmente l'informazione è la cosa principale che deve continuare e ogni informazione che dovesse venire data distorta deve essere sanzionata, quindi bisogna combattere la cattiva informazione e l'informazione allevata sempre tramite scritti, cioè tramite lettere raccomandate. Vediamo un attimo la parte normativa e cercherò di essere un pochino più sintetica visto che è abbastanza vasta. Per una corretta, l'importante è la nostra raccomandazione è quella di tenerci informati. Per una corretta informazione quindi è necessario tenere presenti delle strategie legali per opporsi ad una richiesta di vaccinazione che possa essere sia da parte di un pubblico ufficiale, sia nelle scuole, sia da parte dei presidi sanitari, cioè come ci difendiamo dalle richieste di una vaccinazione obbligatoria e qui comunque parliamo in senso generale e non con particolare riferimento a H1N1. Poi parleremo riferendoci in modo particolare ad una eventuale richiesta di vaccinazione obbligatoria riguardo appunto il virus H1N1. In generale possiamo dire che nessuno ha il diritto e ha il potere di sottoporre ad una vaccinazione forzata quindi contro la vostra volontà. Ad un tentativo di questo genere è sempre possibile opporsi perché legali e ciò sulla base di due premesse. Da un lato perché le vaccinazioni si basa sul principio che le vaccinazioni non sono un trattamento sanitario obbligatorio e dall'altro sull'articolo 39 della Costituzione. Quindi solo il sindaco del proprio comune può disporre eventualmente un trattamento sanitario obbligatorio ma anche in questo caso sono possibili le azioni appunto di contro una tale decisione cioè un'azione dire o modifica contro un provvedimento del sindaco sono che